Benvenuti da Guampisi Massimi Esperti, sono Monch e D come sempre, oggi parleremo di una teoria approfondimento e dilazione sulla volontà dell'AD, il cappello di Mary Joyce, il gigante che ci mostrò il Mesama e non solo. Allora ci tengo a fare questo video e questo approfondimento perché è un argomento a cui tengo molto e ci tengo prima cosa a fare una distinzione, molti nella community, girato un po' questa voce, anche articoli eccetera, che ho letto in passato, hanno fatto confusione sul fatto che il tesoro di Mary Joyce, il cappello gigante che ci mostra il Mesama in quella stanza, insomma isolato, fosse il One Piece. Cioè il tesoro che dovrebbe trovarsi, giustamente, metaforicamente o meno, simbolo o meno, al Rafter e ci tengo a precisare che questo è sbagliato, infatti anche Oda stesso ha specificato. Infatti sappiamo che il One Piece dovrebbe trovarsi naturalmente a Rafter, si trova a Rafter, mentre Mary Joyce è proprio un'altra parte dove si trova nei laghi celesti, regnanti dove si sono riuniti nell'ultimo reverie e quindi stiamo parlando di due posti completamente differenti. Inoltre noi sappiamo che per arrivare a Rafter e quindi per poter raggiungere One Piece c'è bisogno di raccogliere i quattro roda Pogna Griff Rossi, Red Pogna Griff Rossi, o raccoglierli oppure fare dei calchi tipo come ha fatto Brook con quello di Big Man, piuttosto che leggere quello lì che si trovava a Zou, come ci sarà quello lì di Onigashima di Kaido, e il quarto disperso però, quella faccenda lì, ne ho parlato già in un altro video, in un'altra live. E noi sappiamo che per fortuna del nostro capitano c'è la grandissima Nico Robin, che lei è in grado di leggerle e quindi non c'è nessun tipo di problema per arrivare. Sono state alcune voci che dicevano che forse anche grazie solamente a tre, se il quarto fosse disperso si poteva raggiungere, ma penso che sia un po' complicato. Inoltre sappiamo che anche nel film stampito, anche se non è canonico a finire il manga, esistesse, sappiamo che esistesse un log pulse eternal pulse che indicava direttamente la posizione di Raphael, poi Rufy lo distrusse, però quello è un film non canonico, quindi è giusto per un appunto in più. Naturalmente tutto quello che sto dicendo fa parte della mia lettura del manga, facendo riferimento anche a alcune cose viste nell'anime, a volte un po' più dettagliate, però sappiamo che il manga è quello più fedele e quindi ci dobbiamo fidare solamente del manga. Riferendoci anche a delle SBS naturalmente che sono all'interno, a volte leggo, come sapete, in pagina, data, book, magazine, eccetera, però il manga è quello che più ci dà ragione, quindi io faccio riferimento a tutte le mie conoscenze sull'ambito di One Piece, provando a fare questa speculazione, questo approfondimento. Quindi, passando a quello che dicevo prima, noi sappiamo anche perché, sono due cose distinte, perché altrimenti Doflamingo, che dice che voleva diventare il re del mondo, sapeva dell'esistenza di One Piece, sì, ma non sapeva come raggiungere, non sapeva cosa fosse, perché lui sapeva il segreto di Mary Joyce, per questo poteva diventare il re del mondo, grazie al frutto opere. Proviamo a fare un chiarimento, secondo me, coloro che sanno che One Piece proprio sono Garth Sengoku, della Marina, sicuramente lo sanno Roger e tutta la sua ciurma. Ray lì, infatti, se ricordate, a Sabaudi voleva raccontare, anche se disse che avrebbero, diciamo, conosciuto una verità diversa arrivando a Raptor, lui poteva già per annunciarla, ma Rufi lo interruppe. Sicuramente lo conosce quindi la loro ciurma, ma anche Kong, il panammiraglio, i Korosei, quindi 5 assi di saggezza con Im Sama, molto probabilmente, quindi alcuni per il viaggio che hanno fatto, come Roger e la sua ciurma, altri per la storia, per quello che è stato tramandato, per le informazioni, infatti molto spesso la Marina e il governo mondiale volenze avviare delle cose, hanno saputo di questo One Piece, il tesoro, il grandissimo tesoro che farà sì che Rufi può diventare dei pirati. Possiamo dedurre, possiamo speculare, che anche Shanks, Shanks come preferite, sappia cos'è il One Piece. Questo perché? Perché lui sappiamo adesso, anche attraverso il flashback che stiamo vedendo, che è stato diverso tempo mozzo sulla nave di Goldie Roger, che c'era anche il grandissimo Buggy, però noi sappiamo che a Raftel viene detto che furono fatti scendere solo alcuni, non tutti, ma naturalmente saranno scesi Roger, Rayleigh, Scoppergaban, Crocus, il grandissimo Oden Kozuki, quindi non possiamo sapere se anche Shanks e Buggy sono scesi, però erano già facenti parte della churma. E questo perché? Questo spiegherebbe il rispetto che hanno tutti per Shanks il Rosso. Da Marineford, quando interrompe la guerra, si fa restituire i corpi di Barba Bianca e di Ace a Mary Joyce, quando lì nella Terra Sacra viene accettato subito dagli astri di saggezza per avere un colloquio con loro e lì si capisce, solo perché sei tu, ripetono sempre questa frase anche a Marineford, solo perché sei tu, ti accettiamo, lì in quella della Terra Sacra dove sta per iniziare il revere, l'incontro fra i regnanti dei vari paesi. Quindi ipotizziamo un'onillazione che Shanks fino ad ora abbia fatto da tramite, abbia temporeggiato per il ritorno del suo capitano, metaforicamente Roger, in realtà è Rufy, il futuro re dei pirati, perché? Noi sappiamo che Roger era malato, infatti Crocus fece modo di allungare il suo viaggio, la sua vita, è arrivato a Raftel, ha conosciuto cosa del One Piece, però non ha potuto portare a completamento quella che era la sua missione, quella che era la volontà. E infatti poi dopo sappiamo com'è finita. Quindi con l'arrivo di Rufy, Shanks ha aspettato che Rufy fosse pronto, infatti dice, penso che sia quasi arrivato il momento di poterci incontrare quando esce la nuova taglia di Rufy, e quindi abbia temporeggiato fino adesso per il ritorno del re. E questo gli abbia permesso di fare imperatore, grazie anche alle sue informazioni, ma anche all'estrema potenza che aveva. Infatti se voi ricordate, Reili, grandissimo, il re oscuro disse che, mentre stava parlando di Assabauri, che comunque una volta arrivati a Raftel, da soli con i loro occhi, con la loro esperienza, avrebbero potuto raggiungere una risposta diversa dalla sua. Infatti lui si stava fermando, diceva, Nicorobi e negli altri, potesse avere una diversa interpretazione rispetto alla nostra. Rufy lo fermò subito, lui non voleva sapere niente comunque, l'unico che voleva sapere all'inizio era Asop, Usop. Anche se Rufy poi disse, se lo veniamo a sapere, smetto di fare pirata. E quindi si ferma lì il racconto. Ma torniamo a noi, infatti noi sappiamo che comunque Shanks ha scommesso su Rufy, sulla volontà, ha scommesso il suo braccio, però oramai il tempo di temporeggiare è finito, perché Rufy è pronto. Rufy è andato a sfidare un imperatore, nel suo territorio nessuno l'aveva mai fatto, nessuno si era riuscito ad entrare così dentro, gli altri erano rimasti fuori, non lo avevano neanche visto a Big Man. E' riuscito a Volk e Kailand, quindi la sua nuova taglia di un miliardo e mezzo, la sua volontà, è pronto ad ereditare la volontà, cioè lui ce l'ha già la D, ma è pronto ad ereditare, a compiere la volontà della D. E lui, quello che ha fatto per i popoli, alla bassa, a destra, a Volk e Kailand, tutti i popoli, noi sappiamo, non li elenco tutti, tutto quello che ha fatto è pronto. Inoltre un altro personaggio, un attimino, una chiosa che potrebbe aver saputo, ma è morto, è Corazon. Corazon che era un Marines sotto copertura, che era stato che c'era Sengoku, infatti anche fra lui e luce un piccolo scambio fra Lo e Sengoku, dove accendono alla questione della D, però poi viene interrotto il discorso. Quindi, metaforicamente, Luffy è la reincarnazione di Gold Roger, almeno nell'animo, nell'ambizione, nei traguardi, non nella persona. E più volte ce l'ha ricordato durante il manga. Ce l'ha ricordato a Shanks, quando gli dice io divento l'ore dei pirati, all'inizio proprio quando era bambino. Ce l'ha ricordato al vecchio barista che si trovava a Rocktown. Ce l'ha ricordato a Rely, quando l'ha incontrato a Sabaudi, e anche quando poi va via. A Crocus. A Barba Bianca, a Marineford, che prima di morire disse, Ticci, anche se io sono morto, ti ho lasciato qui, canaglia. Non sei tu quello che Roger stava aspettando. E così come la volontà di Roger verrà portata avanti, anche quella di S, verrà portata avanti, fanno vedere Rufy. A Petro, che si ricordò Roger, mentre vedeva Rufy correre, disse noi andremo sempre ai diritti, addirittura si sacrificò grandissimo a Walkie Kailan, per far sì che Rufy potesse partire, potesse andare via. Naturalmente un pezzo di verità lo conoscevano sicuramente, anche nei Comamushi, nei Marashi, perché sappiamo che prima sulla nave di Barba Bianca e di Sema Oden, e poi sempre di Sema Oden, sono passate sulla nave di Roger, hanno saputo tantissime altre cose. Mentre, se parliamo dei cento anni di buio, di 800 anni fa, probabilmente quella storia lì la conoscono le altre sfere della marina, i Gorosei, quindi il governo mondiale, con Im Sama, un lui o un lei, questo lei o questa regina del mondo che mantiene i fili da dietro, e forse qualche drago celeste, come per esempio la famiglia Don Quixote, che era quella di Doflamingo, ma anche quello che fu salvato dalla regina Otoime, sull'isola degli uomini pesci, che poi abbiamo visto invece andare in soccorso di Shiraoshi. Naturalmente anche la ciuma di Gold di Roger, a me aveva saputo di tutti, i segreti del mondo, e naturalmente penso anche a Babba Bianca, quando Roger gli spiegò tutto sotto l'abbero di Ciliegi, lì in quello che io penso fosse Wano Kuni. Per quanto riguarda invece il segreto di Mary Joyce, o Mary Jo, come preferite, con il cappello dove c'è il Mesama, sicuramente i Gorosei, i 6 assi di saggezza, sicuramente quindi, sempre la parte dell'iceberg, la punta dell'iceberg e della marina, probabilmente per l'ammiraglio, ma anche parte dei draghi celesti, come vedemmo, naturalmente, se ricordate, come ho detto poco fa, Doflamingo, che disse che grazie ai poteri del frutto Ope Ope, se fosse stata donata all'etena giovinezza da Lo, in cambio della vita di Lo, lui poteva diventare, non il re dei pirati, ma il re del mondo. Andando a parlare di un altro personaggio importantissimo nella trama, uno dei più grandi personaggi, la punta di diamante dell'armata rivoluzionale, il capo supremo, Monkey D. Dragon, lui, penso che sia il personaggio più enigmatico di tutto il manga, uno di quelli che ha voluto combattere tutto, soprattutto il governo mondiale, ai fantocci, dei draghi celesti, è stato il primo a capire questa cosa. Sappiamo che il ricercato numero uno al mondo, l'uomo più ricercato, potrebbe avere la taglia più alta di tutti, perché ne abbiamo viste quelle degli imperatori di Gold Roger, ma quelle nell'ambito della pirateria, lui è un rivoluzionario. Sappiamo che abbiamo visto il muove del vento, abbiamo visto una salva Rufi a Rogue Town, quando salvò il piccolo Sabo all'inizio, disse che non era ancora il momento, che non aveva ancora abbastanza potere per compiere la sua missione. Ha raccolto dei uomini molto strani, ma molto forti, con poteri molto interessanti nei vari punti del mondo, dei mari. sappiamo avesse un passato da Marines, lui è figlio di Monk e di Garth, l'eroe della marina, noi sappiamo anche perché i pirati Rocks, Grotto Valley. Lui era giovane, abbiamo visto l'esecuzione di Roger, non aveva ancora il tatuaggio sul volto, adesso c'è un tatuaggio sul volto, che si è stato in isola del cielo e gli abbiano fatto questo tatuaggio, molto simile alle persone provenienti da quel posto. e poi ci chiediamo perché quest'uomo è più ricercato del mondo? Perché la taglia al piatto? Perché libera i popoli? Perché libera le razze, la schiavitù? Solo questo? Anche se questa è una cosa importante, perché noi sappiamo che Im Sama, il re del mondo, quello dietro, nascosto, quello che mantiene finire, diciamo, dell'equilibrio fittizio, dove ci sono questi fantocci, dei raghi celesti, spegne ogni tanto, quando ha voglia, queste luci che devono sparire dal mondo e comunque va a collidere con Dragon che libera i popoli da questa schiavitù. Ma per essere il primo ricercato dal mondo deve sapere anche qualche segreto importantissimo che se venisse svelato porterebbe in modo nel caos. Soprattutto potrebbe essere in possesso anche di un'arma ancestrale o saperne l'ubicazione. Potrebbe essere addirittura in possesso come offrezione del quarto Pogne Griff o di un calco del quarto Pogne Griff che si dà per disperso. Comunque a Mary Joyce, Sabo insieme agli altri rivoluzionari è andato a conseglierla la lettera per dare guerra, dichiarare guerra ai raghi celesti. Scontrandosi poi con una parte degli ammirati, poi non sappiamo quando era a finire, però volete seguire il video su Sabo che ho realizzato dove do una mia spiegazione in merito. Adesso andiamo nella parte finale di questo video di approfondimento parlando del mio personaggio preferito. spero che questo video vi sia piaciuto come lo direte sicuramente qui nei commenti del video cioè parliamo di Monkey D. Ruffy Monkey D. Ruffy colui che diventerà il re dei piranti l'unico che può completare il quadro l'unico che può portare a compimento quello in cui il goal di Roger non era riuscito. infatti molti rivedono in Ruffy quello che era il goal di Roger ma parliamo dei One Piece il One Piece oltre ad essere un tesoro è tutto quello che c'è dietro è tutto quello che c'è alla storia e alla macro storia è il segreto della D è il segreto di questa volontaria editata la determinazione di un uomo che vuole liberare i popoli la determinazione di essere l'uomo più libero del mondo e di non vuole dominare niente ma quello che libera e si fa a caso del carico del peso del mondo quindi vuole essere l'uomo più libero del mondo che però vuole sapere il segreto che c'è scritto sui buoni e griff e non solo sulla storia dei cento anni di Buio ma di tutta la storia e anche dell'arma ancestrale Ruffy dovrà distruggere gli equilibri gli ingranaggi cosa che già sta facendo in modo tale da poter liberare il mondo è lui l'uomo che vuole essere più libero del mondo e dimostrazione della sua volontà di libertà della D senza dimenticare del suo più grande potere senza dimenticarci di quello che è il suo più grande potere che non è solo l'agri dell'armatura non è solo l'agri della percezione non è l'agri del re non è il ghia al forto tutte le forme che c'ha ma quello di voler farsi amici ovunque con questo suo animo gentile ed attirare verso di sé tutti i popoli e tutte le razze questo è quello che disse anche Miwok a Marineford naturalmente Ruffy ha un'altra caratteristica molto importante che è quello di sentire la voce delle cose come abbiamo visto con Ieri dei Mari come abbiamo visto con Zunisha molto importante sarà anche sapere di più su flashback delle editori e quindi le informazioni che saranno rilevate grazie alla saga di Wanokun in cui Ruffy si è addentrato nella sfida di due imperatori e anche naturalmente il legame che Ruffy ha con le varie armi ancestrali e che avrà anche con le altre iniziando da Poseidon detto questo videoteria finita naturalmente come sempre per la stesura di questa diciamo questo approfondimento mi ha aiutato come sempre il grandissimo Katakuri Suar l'approfondimento è finito ora fateci sapere voi cosa ne pensate qui nei commenti ricordatevi di passare le nostre pagine Facebook One Piece Massimi Esperti Italia dove trattiamo tutto quello che riguarda One Piece Data Book Magazine approfondimenti teorie approfondimenti illazioni ricerche storiche come sapete Katakuri è un grandissimo su queste cose i commentoni settimanali e One Piece Massimi Esperti e tanto altro dove recenziamo i film di animazione gli altri manga gli altri anime e non solo dal nostro gruppo Facebook dove voi siete gli protagonisti e sta crescendo molto dal nostro account Instagram ricordatevi Road Tu10k Anime Tubers Assembled fateci arrivare fatemi arrivare a me e soprattutto ai massimi esperti a 10k su Instagram detto questo lasciate un like se non siete ancora iscritti ci state sentendo la prima volta iscrivetevi anche qui a Youtube e ribadisco come sempre la cosa più importante fatemi sapere voi cosa ne pensate un ampio di massimi esperti al prossimo video a a a a a a a a